Questa giornata è stata giornata di recupero delle attività che avremmo dovuto fare il 25 marzo, ma siccome c'era cattivo tempo ed erano previste attività all'aperto, abbiamo deciso di rinviare. Il FAI regionale ci ha dato due date, il 6 e il 15. Il 6 abbiamo recuperato a Villa Filangere a Santa Flavia e il 15 stiamo recuperando qua a Bagheria. I ragazzi qua si occupano di illustrare la villa in tutti i suoi aspetti, ci sono alcuni ragazzi che hanno illustrato tutta la parte, la flora, tutta la situazione della villa in sé. Ci sono stati ragazzi del liceo artistico che invece hanno riprodotto un plastico del caffè, dei caffè house e hanno fatto delle installazioni di uccelli con sottofondo musicale come se ci fossero veramente gli uccelli e hanno fatto perché i caffè house erano utilizzati come voliere oltre che come punti di ristoro per i nobili. Il vostro impegno è continuo, però c'è tanta strada da fare. Perché noi diamo l'input per l'apertura, per la valorizzazione, ma poi non possiamo stare sempre presenti. Per qua noi abbiamo dato l'impegno che anche utilizzando l'alternanza scuola-lavoro potremmo almeno un giorno o due giorni a settimana tenere aperto, che sto sabato e domenica. Però ancora siamo in alto mare perché ancora il contratto di comodato d'uso che ci ha fatto il comune non è stato accolto da Milano perché mancano delle precisazioni nel contratto che si devono sistemare. È una bella esperienza perché comunque cominciamo a conoscere dei monumenti della nostra città, quindi posso dire che è un'esperienza fantastica. L'area, anche se comunque non è ben curata perché si trova anche in uno stato di degrado, offre tanto. Quindi anche solo stare al contatto con tutte le piante che ci sono nel giardino anche ti aiuta, ti rilassa. La natura e l'armonia di questo luogo. Sì, esattamente. Entrando dal portone si dimentica secondo me... Non sembra di essere in città. No, no, assolutamente. È un ambiente diverso completamente.